ben trovati a tutti voi un nuovo appuntamento di instant focus con approfondimenti su temi che sicuramente sono cruciali per il nostro paese e non solo in questo momento in primo piano oggi indubbiamente le imprese noi stessi e lo scenario macroeconomico che ci troviamo a vivere ogni giorno e allora tra poco entreremo anche un po nel dettaglio di alcune delle parole chiave che vorremmo analizzare insieme a voi ma soprattutto insieme al mio ospite che mi ha raggiunta in studio Giuseppe Mura CEO e founder di Lubea grazie un piacevole ritorno per approfondire peraltro alcuni dei temi che avevamo già affrontato in altre occasioni e allora il titolo partiamo proprio dal titolo se lei è d'accordo perché riporta effettivamente alcuni concetti che poi aprono tantissime parentesi e che ci aiutano a entrare nel merito telco pnr digitalizzazione già qui potremmo davvero discutere per ore e ore e giornate intere però partirei dalla seconda parte del nostro titolo Italia al bivio tra punti critici e opportunità e beh subito l'assist è questo indubbiamente le difficoltà l'Italia al bivio la vediamo tutti i giorni l'inflazione ancora alta l'azione sicuramente aggressiva da parte delle banche centrali tassi di interesse alti e l'economia è in rallentamento non solo quella dell'Italia ma anche quella di altre potenze mondiali e questo è ancora insomma più aggravante diciamo così poi parleremo anche delle opportunità perché noi vogliamo sempre dare il risvolto positivo però le chiedo un parere dal vostro personale osservatorio dall'osservatorio l'Ubea innanzitutto ti ringrazio dell'invito e trasmissione oggi è un piacere stare nuovamente con voi sì sicuramente come impresa che lavora nel campo delle telecomunicazioni è comunque un settore che sostiene l'economia del nostro paese la il punto di vista il nostro punto di vista è quello come azienda che comunque opera nell'indotto del dello sviluppo delle reti sia 5g negli ambiti della fibra ottica è un punto di vista estremamente attuale considerando le criticità che appena è la situazione nella quale l'Italia si trova in questo momento noi percepiamo queste difficoltà queste difficoltà soprattutto da parte dei nostri principali clienti che sono i principali operatori di rete sia negli ambiti appunto wireless che come dicevo negli ambiti della fibra ottica criticità sostanzialmente legate al forte stato di crisi nei quali versano a causa comunque da una serie di situazioni di cui magari andremo a parlare successivamente diciamo che sicuramente un grosso aiuto oggi lo sta dando lo sta dando il PNRR perché assolutamente sta in maniera molto molto importante molto molto incisiva sta sostenendo lo sviluppo delle nostre infrastrutture di rete che poi è funzionale alla digitalizzazione del nostro paese quindi in quest'ottica ci sono delle difficoltà abbiamo sostegno da parte dell'europa però come andremo magari poi approfondire in seguito se ne abbiamo modo chiaramente potremo sicuramente scendere anche nel dettaglio e comprendere meglio a cose legato lo stato di crisi in cui versano attualmente guardi lei ha già colto al volo io prima ho detto cercheremo di indagare quelle che sono le opportunità PNRR in questo momento lo è indubbiamente diciamo che dobbiamo poi dovremmo poi essere in grado come paese di non considerarlo solo voglio capire se è d'accordo come salvezza ma proprio come opportunità vera è proprio di crescita non solo come ripresa ma crescita che sono due cose diverse fanno parte dello stesso pacchetto ma insomma danno modo poi invece di fare altri ragionamenti no questa è la prima opportunità questo proposito vi vorrei più interromperti manuela è sicuramente molto indicativo quello che l'articolo che è uscito sostenendo online proprio qualche giorno fa relativamente a questi aspetti dove appunto evidenziamo come il PNRR si è importante ma va utilizzato e va inserito in un contesto che preveda un controllo una gestione opportuna è certo infatti vi leggiamo sempre su trend online e non a caso vi siete focalizzati su questo poi è un po quello che è stato detto poco fa non salvezza ma vera e propria opportunità io volevo parlare con lei dottor mura di inquinamento elettromagnetico e spieghiamo subito perché a chi ci segue perché rispetto a questo argomento spesso sentiamo parlare forse di un vero e proprio caso italia in che senso rispetto agli altri paesi dell'unione europea in italia non vengono rispettate come dire a dovere le raccomandazioni che arrivano proprio dall'europa io sono qui a chiederle se è così e in effetti cosa succede se questo è vero sì possiamo parlare di un vero e proprio caso italia manuela perché questo è essenzialmente dovuto a due aspetti fondamentali uno legato alla disinformazione comunque regna sovrana ed è dilagante nel nostro paese relativamente a questo tema l'altro è legato a una normativa che è estremamente più restrittiva rispetto a quanto prevedono le normative europee l'europa ha dato le raccomandazioni raccomandazioni che comunque tengono conto di una serie di studi assegnati organismi internazionali certificati che prevedono l'effetto sulla salute delle radiazioni ionizzanti sul corpo umano questi limiti quindi sono certificati sono hanno comunque una valenza importante e mentre paesi come la francia la germania la spagna il portogallo seguono queste raccomandazioni in italia abbiamo deciso di non seguirle non si capisce bene per quale motivo è qui che si genera poi il caso italia emmanuela nel senso che in italia mentre le normative europee prevedono le raccomandazioni europee prevedono una variazione dei limiti di esposizione ai campi variabile con la frequenza quindi i limiti di esposizione aumentano all'aumentare della frequenza di radiazione chiaramente in italia abbiamo deciso di innanzitutto definire dei limiti di esposizione più bassi rispetto al valore minimi europei previsti e non solo ma non variabili con la frequenza ma costanti questo cosa porta porta a ad avere a ad avere un gap una differenza tra limiti di esposizione sempre più ampia man mano che la frequenza aumenta e questo chiaramente è un problema e ci porta in condizioni di svantaggio rispetto a paesi europei che sono i nostri diretti competitor come appena detto francia germania spagna portogallo ad avere più facilità nell'avere le autorizzazioni per installare i loro impianti ma non solo noi non contenti in italia di questo limite di esposizione più basso abbiamo definito anche un ulteriore soglia che è circa il 70 per cento più bassa del limite esposizione italiano che prevede che prevede che vi era applicata laddove si prevede che la permanenza delle persone sia superiore alle quattro ore continuative tutto ciò che effetti ha che conseguenze determina determina che gli operatori chi gestisce le infrastrutture dirette chi deve realizzare nuovi siti anche per sostenere la digitalizzazione del nostro paese ha difficoltà a che questi limiti vengono rispettati a diciamo installare nuovi impianti perché questi limiti non vengono rispettati questa situazione di svantaggio poi si ripercuote anche nell'aggiungimento degli obiettivi che ci vengono fissate che ci vengono insomma imposti all'unione europea per il rilascio delle tranche del pnr quindi per questo soprattutto in questi ultimi mesi si è cercato di modificare questa normativa ma ad oggi senza successo questo è un problema ecco perché caso italia ce l'ha spiegato molto bene devo dire no perché senza un motivo apparente e purtroppo poi rischiamo di tirarci la cosiddetta zappa sui piedi e questo invece dobbiamo evitarlo proprio per questo ho voluto partire con un contesto uno scenario un po più macroeconomico anche se l'abbiamo toccato. Permettimi di aggiungere un'ultima cosa che secondo me è molto importante è il fatto che la difficoltà poi di realizzare questi siti porta gli operatori a non realizzarli dove sono migliori le esigenze dove vengono soddisfatte le esigenze di copertura e di capacità di traffico e aumenta quindi anche i costi non solo non ragione perché per coprire quell'area a quel punto invece di mettere un sito ne devono mettere due o tre chiaramente questo aumenta i costi. Insomma se si parte male poi si può solo andare peggio questo è il tema. Un altro grande caso di attualità riguarda l'ingresso di investitori stranieri nell'ambito proprio delle telecomunicazioni insomma quindi non posso non affrontare questo discorso con lei. Cosa sta succedendo? Asset strategici nel nostro paese stanno andando in mano a realtà che poco hanno a che fare forse no con il contesto di riferimento con la gestione proprio degli asset di riferimento e non sono neanche radicate in Italia queste società quindi insomma mi verrebbe da dire un caos incredibile. Al di là del caos immagino che ci siano tanti pericoli quali sono i più evidenti se ci può portare anche qualche esempio concreto? Certamente il diciamo che il caos come dicevi si genera nel momento in cui non c'è controllo e non c'è gestione e questo è quello che è accaduto nel nostro paese ma che accade da vent'anni nel nostro paese. Attualmente se andiamo a vedere i nostri asset appunto legati al comparto delle telecomunicazioni oggi non abbiamo una infrastruttura di rete proprietaria o comunque gestita da fondi di investimento o comunque da realtà italiane ma nelle quali lo Stato non ha nessun controllo. Mi pare veramente singolare che ci sia un paese dove l'infrastruttura delle telecomunicazioni non è controllata dallo Stato. Oggi troviamo il principale operatore di telecomunicazioni in Italia che appunto Tim che nel fine degli anni 90 era leader nel mondo, era tra le prime 4-5 aziende di telecomunicazioni al mondo, oggi è in mano per il 68% ai investitori sanieri, di cui il 30% ce l'ha in mano di B&D che comunque sono i francesi che hanno appunto una quota in maggioranza relativa molto molto importante e quindi con un potere decisionale sicuramente di grande peso. Ci troviamo il Wind che adesso a valle dello scorporo della sua rete della creazione della Nuco o Netco come la vogliono chiamare, oggi o tra breve sarà a controllo svedese cinese, 60% il fondo di investimento EQT svedese, EQT Infrastructure ha assorbito tutta l'infrastruttura della rete e il 40% rimane proprietà cinese. Abbiamo poi un altro aspetto oltre che entrare in maniera massiva nell'azionariato delle più importanti aziende di telecomunicazione del nostro paese, abbiamo anche l'apertura all'ingresso di operatori esteri che entrano in Italia e fanno concorrenza ai nostri asset in un mercato che non è pronto per avere nuovi operatori. Quindi nel momento in cui il termine globalizzazione, privatizzazione e libero mercato che sono dei temi bellissimi, però nel momento in cui questi non vengono controllati e gestiti opportunamente creano problemi all'economia reale del nostro paese per tutta una serie di motivi come abbiamo detto perché chiaramente i fondi di investimento che sono banche o che sono comunque fondi pensioni o altro investono per avere dei ricavi nel breve e medio periodo e quindi con delle ottimizzazioni operando delle ottimizzazioni che poi possono danneggiare appunto il nostro paese. È stato anche qui molto chiaro insomma. Ci sarebbe tanto da dire però... Sì, sì, però con esempi concreti quantomeno si riesce ad arrivare subito a... Esatto, si vede all'ingresso di Iliad in Italia per esempio come ho detto. Ecco, appunto. Ecco, solo giusto un piccolo appunto su questo, è un'idea che dà un'indicazione chiara di cosa ha comportato l'ingresso di Iliad nel nostro paese. Dal 2017, da quando è nata Iliad, l'ARPU in Italia è scesa dal 21,5 euro, quindi il consumo medio per utente, la spesa media per utente è scesa da, su base mese, è scesa da 21,50 euro a 7,1 euro e 50 in solis. Quindi si è ridotta il 43% in favore di un operatore che ha totale controllo francese. Riflettiamo su questo. In Francia questo non è... lo posso non sarebbe capilato. No, no, noi spesso non siamo bravi a difendere le nostre eccellenze. Cosa che i francesi stanno fare molto bene invece. Sì, i francesi assolutamente. Allora, abbiamo ancora qualche minuto ma io vorrei tornare sul PNRR a partire dalla cifra che l'Italia ha a disposizione per gli investimenti. Quindi 27 miliardi di euro, 27 miliardi di euro. Abbiamo già detto che è uno strumento che può imprimere dunque al nostro paese una significativa crescita, ma soprattutto un reale investimento in quella che è la digitalizzazione, potremmo definire la piena, la full digitalizzazione. Ho fatto un mix di parole italiane e inglesi. A che punto siamo però e quanta strada abbiamo ancora da percorrere? Perché a volte abbiamo le risorse ma poi non riusciamo, come dire, a stare al passo con quello che dobbiamo fare. Quindi ci facciamo trovare sempre un passo indietro. Ovviamente lo dico sperando che non sia così. Beh, diciamo che la situazione al momento è ancora piuttosto preoccupante. Quindi nel senso che siamo ormai prossimi al rilascio della terza tranche dei fondi del PNRR e da quando c'è stata l'assegnazione dei bandi per lo sviluppo del piano Italia 5G e del piano Italia 1G, a quando sono state rilasciate le prime due tranche, l'Italia non è mai riuscita a nessuna scadenza rispettare gli obiettivi. Per motivi differenti, parlando di fibra ottica e parlando di 5G, perché poi alla fine la digenerazione la serializza realizzando queste infrastrutture che sono fondamentali per il nostro paese. Per quanto riguarda la fibra ottica, ad oggi abbiamo, come già ti avevo accennato anche allo scorso incontro, abbiamo fatto qui su Instant Focus, c'è un problema di addetti necessari che lavorino nel settore. Soprattutto nella parte di installazione, comunque di opere civili e comunque di realizzazione della rete in fibra. In parte questo, in quest'ultimo anno, da come siamo visti, si è risolto, però non ancora del tutto. Questo è un tema importante. L'altro tema poi importante, e si potrebbe risolvere questo utilizzando una serie soluzioni che adesso purtroppo, poi magari in un altro incontro poi approfondiremo, Il secondo aspetto è fondamentalmente legato al fatto che oggi i due principali, per la fibra ottica, i due principali operatori, che sono Open Fiber e Fiber Coop, non hanno ancora dimostrato di avere un piano chiaro ed efficace di condivisione della loro rete per realizzare quella che tutti chiamiamo a diversi anni rete unica, la cui costituzione è ancora in alto mare. Ma questo perché ci sono comunque interessi anche di carattere finanziario legato alla valorizzazione della rete di Telecom, abbiamo l'azionista di maggioranza relativa come i Vendì, che sta discutendo KKR, che è il fondo americano che controlla Fiber Coop. Tutta una serie di situazioni legate che comunque non fanno gli interessi al Paese. Infatti per questo motivo, secondo me, ha fatto molto bene questo governo a entrare nella partecipazione di team al 20% col MEF, avendo la possibilità di poter incidere sulle decisioni strategiche finalizzate appunto a uno sviluppo di... E ci si può mettere la voce, no? Ma certo, ma certo. Perché altrimenti dobbiamo subire delle decisioni. E finalmente insomma c'è qualcosa, c'è un passo concreto, c'è un intervento che molti criticano, non capisco per quale motivo, ma che secondo me deve essere, deve essere così, deve essere efficace e deve dare una direzione. Per quanto riguarda invece la parte 5G, i problemi si legano anche alla risposta alla tua prima domanda, i problemi di realizzare nuovi siti, la disottimizzazione delle coperture, perché spesso le aree dove possono nascere nuovi siti non sono adeguate per la copertura necessaria. Certo. Tutta una serie di altre tematiche che sono praticamente critiche. Poi come ha detto lei, nel prossimo incontro capiremo se ci saranno... Sì, sì, entreremo nei dettagli, ma soprattutto sperando che ci siano anche degli effetti pratici positivi, no? Assolutamente. Da questo. In conclusione, forse è la domanda più importante che perché mette insieme tutto quello che abbiamo detto. A me piace definire l'economia street economy, non è solo la street economy, però è quella che arriva forse di più alle persone, no? Cioè l'economia che tutti noi respiriamo ogni giorno, quella da strada, se vogliamo. che vogliamo tradurre proprio dall'inglese all'italiano. Alla luce della situazione attuale, da cui siamo partiti, quindi vede che torniamo, quali stimoli e strategie si sente di proporre per il futuro? Mi rendo conto che quando parliamo del futuro si parla di un futuro prossimo, prossimissimo. Non so se va bene questa parola, però va bene, cominciamo a ragionarci. Sì, sicuramente la situazione attuale ha un grosso peso sulla street economy, sull'economia reale del paese. Perché poi c'è quella dei mercati finanziari, è poi quella che è una cosa, e poi c'è quella del paese. Ormai sembra che siano proprio su dei binari totalmente diversi. Considera, Manuela, che uno studio di Ambrosetti ha calcolato che il comparto delle telecomunicazioni in Italia genera il 2,3% del PIL. Abbiamo 210.000 addetti nel settore, incluso l'indotto. Cioè, voglio dire, è una fetta importante della forza lavoro del nostro paese. E considerando anche che da tutta una serie di altri studi si prevede che a valle di ottimizzazioni che verranno fatte a seguito degli scorpori, dei corporate split, se vogliamo utilizzare un termine anglosassone, che stanno facendo adesso gli operatori, proprio per contenere i costi a valle della crisi finanziaria nella quale si trova, nonostante i fondi del PNRR, si prevede che almeno 20.000 persone verranno rilasciate e perderanno il posto di lavoro. Quindi questa è una conseguenza assolutamente dannosa, che porta a una situazione complicata da gestire per la nostra economia. Persone che dovranno farsi sostenere dallo Stato perché non hanno più lavoro, persone che comunque spenderanno di meno, pagheranno meno tasse. Quindi è una crisi generale che si viene a creare proprio dalle situazioni di cui abbiamo parlato prima. strategie per definizione di soluzioni. Allora, io non penso di essere, insomma, di avere la bacchetta magica, però sicuramente... C'era nessuno, diciamo chiaramente, neanche, voglio dire, ad alti livelli, no? Magari, altrimenti saremmo a posto. Esatto. Quello che io penso è che sicuramente è necessario che venga creata una cabina di regia ad alto livello, ma non di 160 consulenti come era stata fatta per la pandemia. una cabina di regia con poche persone competenti e anche al di fuori del governo che abbiano una sorta di... posso dare una direzione a come si deve andare avanti. perché anche consentire queste operazioni di scorporo, messe in mobilità di personale, in messa come in solidarietà di tutta una serie di... comunque tutta una serie di operazioni per risparmiare a tutti i costi, senza rendersi conto che questo impatta sull'economia reale del Paese, non è proprio corretto. Bisognerebbe appunto vedere il quadro di insieme, cosa che oggi ancora nessuno vede, e poi fare gli interventi opportuni. Anche dare una direzione chiara, perché altrimenti si continua in questo caos. Appunto, torniamo alla parola di prima, parola che abbiamo aggiunto senza volerlo. A quelle di partenza, certo, però appunto l'importante è avere prima un quadro preciso, poi delle strategie che vengono anche provate, io credo che nessuno può essere infallibile, però quantomeno si parte da una situazione più chiara possibile. Ci sono anche altri interventi che adesso comunque non hanno bisogno di approfondimenti, però ne parliamo in un altro momento. Un'ultima, giusto, un'osservazione finale, Emanuela, è un altro segnale che vedo positivo, è che per esempio adesso Open Fiber ha cambiato il proprio amministratore delegato, e quindi proprio per cercare magari di cambiare un po' le cose. Adesso c'è Gola, che viene, se non sbaglio, da CEA, precedentemente c'era Rossetti, che sembra non sia stato confermato, quindi si stanno muovendo, ci sono delle operazioni che vengono fatte, auguriamoci tutti che siano delle mosse strategiche corrette. Allora, noi in questo caso ci salutiamo con le dita incrociate. Assolutamente. Però io ovviamente mi sono già appuntata qua e là, gli argomenti che dovremo continuare ad affrontare, si spera, con maggiori elementi, che possono farci anche proprio parlare di pratica, non che oggi non ne abbiamo parlato, però insomma restano ancora, come ha detto anche lei, tanti punti interrogativi, che sono quelli che poi vediamo tutti ogni giorno, da osservazioni diverse e da punti di osservazione differenti. Quindi grazie a Giuseppe Mura, CEO e founder di Lubea, ci vediamo presto. Con grande piacere. Esatto, con tutti questi altri spunti che non ci dimenticheremo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Magdalena. E grazie a tutti voi per averci seguiti in questo nostro appuntamento di approfondimento Instant Focus. Buon proseguimento. Grazie a tutti.